Questa sera è una sera speciale, la vigilia di Natale, c'è una... È un Babbo Natale stanco e un po' giù di morale, quello portato a teatro da Fondazione Aida con due musical e in scena in questi giorni molti teatri del nord-est d'Italia. Buon Natale, Babbo Natale, dove Pino Costalunga, autore di entrambi i testi e anche attore nei panni di un Babbo Natale appesantito per aver mangiato troppe strane caramelle, omaggio di un ammiratore misterioso. Guarda fuori dalla finestra, scende la neve fresca, Natale arriva già! E Babbo Natale è la pozione delle tredici erbe, un magico viaggio nel laboratorio di Babbo Natale dai boschi della Svizzera fino al Polo Nord. Due storie appassionanti in cui testi, canzoni, danze, con i solisti del Corpo di Ballo dell'Arena di Verona, Elisa Cipriani e Luca Condello, tengono incollati gli occhi di grandi e piccini sulla scena facendo il tifo perché Babbo Natale ritrovi la fiducia e la gioia della festa. Sono due dolci storie di Natale dove Babbo Natale rischia di far saltare Natale perché succede qualcosa, c'è qualche cattivo, invidioso o che ha... Sì, però più invidioso della festa del Natale che vuole bloccare Babbo Natale. E' una bella storia natalizia che affronta anche altri temi come quello della convivenza pacifica, dell'accoglienza, anche addirittura del mangiar sano. Ecco, quindi due storie natalizie che però parlano della vita in qualche modo. Ecco, sono proprio due creazioni tutte nostrane sostanzialmente, musiche, testi, danzatori, uno spettacolo molto molto bello, molto laborioso. Sì, è prodotto da Fondazione Aida, sono assolutamente storie originali di cui io sono l'autore di ambe due con il primo Nicoletta Vicentini, Buon Natale, Babbo Natale, la pozione delle tredici erbe, lo scritto invece con Raffaele e la tagliata che cura la regia di tutti e due gli spettacoli, la produzione, dicevo, di Fondazione Aida e sono appunto sia la storia che le musiche sono completamente originali. Quindi per i bambini ma anche per i genitori. Sì, perché è uno spettacolo e una storia per bambini è sempre una storia anche per i grandi, anche per i genitori. Tutti possiamo divertirci a vedere una favola e il Natale è il momento migliore per lasciarsi andare un attimo alle favole.